Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, stanotte parlerò di Natale. Lo so, diciamo che l'originalità non è il mio forte stanotte, del resto al 25 tocca. E per essere ancora più banale mi sono messo per la prima volta e per l'ultima volta al maglione natalizio che mi sono preso quest'anno. Prima e l'ultima volta perché chiaramente non ci vado in giro. Non vorrei mai che la gente pensasse che sono dentro lo spirito natalizio di felicità, di gioia, di contentezza e cose del genere. Che mi dispiace anche un po' perché ogni anno me ne prendo uno, questa è la realtà. Cioè, ogni anno me ne prendo uno, ne ho veramente tanti, che non metto chiaramente mai. Cioè, vabbè, pazienza. Il primo che mi sono preso anni fa era quello degli ACVC. Bellissimo, fatto arrivare dall'America, un L ho pensato. Solo dopo ho ripensato che gli americani hanno taglie leggermente diverse dalle nostre. Quindi un L è praticamente una specie di XXXL nostra. Ci nuoto dentro. Dopo ce n'è uno dei Goonies. Ce n'è un altro di Space Invaders. Un altro degli Iron. Insomma, ne ho di carini. Li prendo. Li tengo a portata di mano per due o tre settimane. Dopo, chiaramente, non li prendo mai in mano. Se non dopo, per rimetterli tipo in soffitta, cose del genere. Tranne uno della Coca, della Coca-Cola, a cui sono affezionato. Che quello lo tengo a portata di vista, di mano, tutto l'anno. Detto questo, beh, tra altre cose, stanotte sarei dovuto, cioè, la vigilia sarei dovuto andare a mangiare a casa di amici. Fatalità. Hanno beccato, hanno un figlio e uno dei compagni di classe l'hanno trovato positivo al Covid. Di conseguenza, al solito, tutta la famiglia è in quarantena. Per una volta che avrei mangiato bene, anche perché due o tre volte all'anno bisogna mangiare bene, va bene. Amen. Va bene così. Come ben capite, lo spirito natalizio non è nelle mie corde. Quest'anno, l'anno scorso, più che mai. Però, si fa quello che si può, insomma. Negli anni, comunque, ho sempre fatto canzoni, ho sempre fatto una marea di cose sul Natale. Molto ironiche, molto serie, a volte ironiche, a volte serie. C'è una che mi rappresenta, mi ha rappresentato molto, fatta anni fa, è Buon Natale, auguri a guisti, ma sinceri, Buon Natale a me. L'avevo scritta perché, alla fine, ho sempre odiato questa cosa degli auguri forzati, auguri, questa è un'altra banalità, diciamo, ma questa è una puntata sulle banalità. Ossia, persone che non senti da una vita, o meglio che senti solo durante le feste, classica frase, e tu dai la classica risposta. Insomma, l'ipocrisia, allo stato puro. A volte, tra le altre cose, a volte ci metto anche del mio, per carità, perché tutti ci mettiamo del nostro, perché quando riceviamo magari di messaggi da persone che non sentiamo da una vita, qualcuno, a qualche augurio, vorresti rispondere con un bel baffanculo, o qualche altro con ma sei ancora vivo, barra viva. Qualche altra persona, vorresti semplicemente dire mi manchi. però alla fine rispondiamo, risponderemo sempre con un anche a te. E vabbè, non siamo perfetti. Chiaro che non siamo perfetti. Però c'è da dire anche una cosa, questa cosa che ho scritto auguri egoisti ma sinceri, ho fatto anni fa, e mi sono reso conto che con la vecchiaia non è che divento più saccio, ma se da un lato divento più intollerante verso tantissime cose, dall'altro un po' ci penso, effettivamente un po' di auguri di Natale quest'anno li vorrei fare alle persone che stanno seguendo quello che sto dicendo. perché comunque qua sono serio. Se una persona è qua ad ascoltare questa cosa qua, ed è arrivato fino a qua, ok, vuol dire che è una persona intelligente. Scherzi a parte. sicuramente durante il periodo di Natalizio molte persone ascoltano le mie cose, però ascoltano le canzoni, ascoltano i monologhi perché arrivano col tag, arrivano perché cercano qualcosa per Natale di ironico, divertente. Se una persona sta ascoltando sta cosa, vuol dire che condivide il mio pensiero, magari non sempre, soprattutto perché, soprattutto perché a volte è un po' improvvisando sempre, a volte perdo il filo logico, del discorso, ma a parte che è di logico, questa vita cosa c'è di logico, ok? Però, se stai ascoltando, chi sta ascoltando vuol dire che si fa le stesse domande mie, e soprattutto vuol dire che non riesci a trovare come sottoscritto le risposte, che siamo un insieme di una marea di domande, ok? E siamo bravissimi con le domande, con le risposte, ci mettiamo un attimo a farcela, una domanda, dopo passiamo però mesi, anni, vite, una vita intera a cercare le risposte, quindi auguro a voi sinceramente non tanto di trovare una risposta, ma continuare a farsi un bel po' di domande, e soprattutto dico anche un bel grazie perché sapere che comunque uno non è solo, a persone che comunque condividono le nostalgie, le gioie che arrivano, le malinconie, insomma, condividono pezzi di vita, è una bella cosa, quindi buon Natale a noi, che magari non siamo proprio felici, che magari però non siamo neanche proprio così tristi, a volte, e basta, buon Natale.